Tranquilli ragazzi perché stiamo tornando, stiamo lavorando per voi per raccontarvi alcune delle più belle avventure di pesca che possiate vivere nelle nostre acque interne e nelle nostre acque salate. Andremo alla ricerca dei predatori più fantastici che si possano incontrare nelle nostre acque. Ci sarà, ve lo garantisco, da divertirsi. Passione Artificiale, i nuovi episodi da martedì 27 agosto alle 22, ovviamente in esclusiva su Pesca TV, canale 236.